Era Emilio e basta, e si è buttato via. Ha rinunciato prima di avere il tempo di conoscere qualche antidoto contro l'infelicità e tutte quelle cose che ogni tanto ti fanno dire che bello, che ridere, ti amo. Sorride stringendomi la mano con un palmo morbido e asciutto. Sa a cosa mi fanno pensare questi ragazzi? Ha delle auto con i vetri oscurati. Fanno fatica a guardarsi dentro persino loro, ma non siamo tutti così a quell'età, pieni di segreti.